Siamo qua alla Valenziana, è la prima gara della stagione e quindi sono molto concentrato, mi sono preparato bene quest'inverno e è una gara di avvicinamento per gli appuntamenti più importanti. Sì, sono molto legato alla Spagna, sia per i training camp che facciamo a Calpe, insomma a Tenerife, sono spesso in Spagna ad allenarmi e mi piace molto, quindi volevo iniziare la stagione anche qua alla Vuelta Valenziana. Sì, sicuramente ho avuto anche tanti impegni per i risultati della passata stagione, però mi hanno dato tanta motivazione per lavorare ancora di più quest'anno. Farò un calendario nuovo, delle gare un po' diverse rispetto all'anno scorso, quindi gli stimoli sono tanti, non conosco tante gare che andrò a fare, però mi piace confrontarmi anche lì.